Ben ritrovati ragazzi sul canale di Galloz, nuovo episodio della nostra partita con l'impero mungolo Stiamo per conquistare il giappone e oggi voglio fare giappone, manchu e impostare la guerra in questa zona Qua ci sono dei tizi, chi sono? Gler Gler, Francia Insomma voglio iniziare a mettere il piedino anche qua in indonesia È una partita molto strana perché anche le altre nazioni sono molto indietro rispetto al solito Forse il fatto che ha razziato tutto, ha rallentato tutto quanto Perché anche in Inghilterra potreste dire che ha un sacco di dev, avrà una flotta gigante Invece se guardiamo le navi siamo primi noi, di già Quindi sono molto poche Molto molto poche Vabbè qua è iniziata la guerra Boom 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 Preciso Adesso dobbiamo sistemare le questioni in Danimarca Abbiamo affrontato e distrutto la sua flotta e il suo esercito Benissimo Qua millimila punti Buca tutto Finita qua, sbarchiamo giù, otteniamo manchu Tu sei da nord Sì dovrebbe andare bene 3 di furetti Io vorrei avere anche il bonus del deliver, dell'avorio Così dovremmo essere in grado di sistemare meglio la cosa Yamato Yamato cannon No, te non faccio una pace separata Così risparmiamo un po' i punti diplomatici Conviene Conviene Ok Stack pipe Eccolo Allora Vediamo se riesco a far pace Tutta D'un pezzo Senza far pace separate Così risparmiamo punti Sì Andiamo a prendere Kai Qua c'era l'oro nelle primissime versioni del gioco Non so se l'hanno spostato da altre parti Qua Mi ricordavo che c'era l'oro qui in mezzo Deve essere interessante che è una partita col Giappone Ha comunque dei tre guzzo che lo possono tenere su bello in piedi L'unica cosa che non mi piace per niente È la zona commerciale C'è Nippon Alla fine Vi costringe a conquistare la Cina E spostare il nodo là Per forza Decoce Siria Dai forza Cadi Cadi Venga il delta Ok Fu l'annessione di tutto quanto Sì non me lo dice Ma la fu l'annessione di tutto quanto Perché è di tre stati contemporaneamente Ok Sembra che io non sia overesteso Saremmo aspettato Perfetto Boom Vorrei uno shortcut Forse c'è uno shortcut Uno shortcut Proviamo Allora Allora Ehm Non Ehm No Ehm Cheivetta Allora Ehm Ehm Cheivetta Ehm 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 Cosa è questo? No, Jinbu, Jingu, will be removed from Ise, Ise gets Ritu Center, cos'è Gisu? Allora aspetta eh, Ise. Aha, che cacchio è sta roba? Toleranza per la vera fede viene rimossa. No, no, tienalo proprio, altro che. Ise gets, ma perchè uno dovrebbe voler sta roba? Local mission or restraint. Ah, vabbè chi se ne frega. Centro dello Shintoismo. Allora, tutti quanti a Kyoto, facciamo una bella festa e ora ci si trasferisce giù qui, si attacca Manchu. Il Giappone è stato archiviato velocemente. Mongol Empire ora è piccolissimo, dobbiamo conquistare Manchu così la scritta torna bella dritta. Eccolo qua, guardalo. Guardalo come cerca di aiutarmi, il mio piccolino Muggles. Piccolino. Allora, innanzitutto facciamo così. Annext te. Potrei annettere pure te. Poi, uno, due, questi qua che sono grandissimi, invece lo facciamo dopo, perchè adesso abbiamo Siria, 526, 551, 457, e non posso farti, posso darti questa parte qua, 529. Quindi poi li facciamo partire tutti e quattro assieme al momento adeguato, fino al Canate prima, magari li facciamo partire poco dopo. Però iniziamo a papparci questo. Devo mettere dell'olio sulla rotellina del mouse. Allora, intanto qua. Collette qui mi dà addirittura due Ducati. No, facciamo transfer. Perfetto. Collette qua mi dà 5 Ducati. Vedi che sono ricchissimo. Sono ricchissimo. 5%. Qui. Transfer. Col nuovo mercante. E la roba va qua. Da qua, va piuttosto che andare agli altri, va ai miei cosi. Un pochino arriverà a Costantinopoli. Tipo il 3%, ma piuttosto che niente. E poi rendiamo più poveri gli altri. Questo non ha prezzo. Allora, tu... Vieni qui. Tu... Fai così. Il tuo ruolo nella vita sarà solo quello di tenere a bada i giapponesi. Fintanto che non fanno più niente. Quindi, almeno nella conquista di Manchu. Qua si può andare. Ok, non l'ho già fatto. Dopodiché basta. Cioè, quando avremo finito di conquistare Manchu, penso che magari aspettiamo di aver fatto qui e poi ce ne andiamo. da Giappone, non dovrebbe servire più nessuno. Ragazzi, Napoli! Si è presa 95 di Power Projection. È fortissima. È stata superata l'Aerlanda l'Usa. Perché non ha ancora questo. Come no, vabbè. Però, wow. Napoli OP. Davvero OP. Compliments. Chi sono il best guess? Se tutti tranne voi... Bohemia. Bohemia? Dove cacchi era Bohemia? Una Bohemia. Gliela ha fatto rilasciare. Prima che sei lì con qualcuno, guarda, beh. S! Ah, perché S è l'imperatore adesso? Ah, Gliela, ti sei fatto fregare la carica, eh? No, per ora resta qua. Qua non ho finito di fare le cose. Chiari quelli lì? Ok. Qua siamo sbarcati. Sì. Va benissimo così. Ti becchi. Nuovo tizio. Ragazzi, che schifo. Ok. Questo è decente. Dannazione, è entrata nella cosa di Venezia. Oh, no. No, questo è decente, mi piace. Perfetto. Tu cosa ci fai qui? Unitevi a Bengal Delta anche te. Poi qua cosa dice? Mugol, c'hami, canetti, la cosa che raccoglielo. Ok, c'è l'altra alleanza. Noval, suppliers, chi se ne frega. Io voglio altro. Ok, qui va bene. Per quanto escono i nuovi sumi Zeroth? Tre anni e nove. Per picchiare questi. Dopo andiamo qui, poi andiamo a capitale. E dura. Allora. Allora. ok boom apposta 90% dobbiamo inseguirli ok dai guadagniamo abbastanza per un nuovo esercito secondo me non è vero non lo abbiamo però non voglio nessun tipo di rivolta qua quindi voglio tenere questo e siamo arrestati proprio 0 vedete sennò ci sarebbero un sacco di rivolte uh facciamo vedere tra un'orda mongola e un'orda manciu che vince ops temo il turbo visto che lo abbiamo non so dove sia ma è benissimo così e sta roba non va assolutamente bene the select all facciamo neighbors europe and enemies allies asia del nord america non mi fria niente ok entrocediamo pure questo poi andiamo lì sulla capito fantastic allora 40 spainetto che è un proverso over time questo qua potrebbe essere interessante nessuno di questi pro mi serve ora 54 quando cade la capitale ci dovremmo essere 31 83 manca poco quando cade quella è fatta andiamo a eliminare le truppe truppe muggles purissima e però così mi state davvero danneggiando dove cavolo sono i cosi sunniti cuban ma qua non escono più quindi devo tornare a convertire io cosa sto convertendo ora la propria cuban che è qua ho fatto l'achievement the rising sun ok non sapevo neanche che esistesse consiste nel ah sono tornati questi qua boh pazienza come nazione europea conquista il giappone si dai cadi quando cade questa è fatta ancora ancora dovrebbero tornarsene a casa tra l'altro l'unica roba che devo riconquistare sarà lì claude chi si ne prega claude ok qua arriviamo a 10 voi andate qui e dall'altra parte no allora va a fine perfetto 93 e dai 98 non hanno più truppe questi qua sono banners ah caspite è vero possiamo reclutare anche noi i banners come si fa posso tirare su 29 banners devo farlo dalle zone di cultura sbeca per forza non l'ho mai fatto quindi potrei far cacate oh li tiro su tutti qua non si può cultura accettata nada quindi solo di cultura sbeca ho i banners la prima volta che li faccio in vita mia disciplina più 10 boom ma sono solo cavalli ok sono solo cavalli banners si forse questo non è uno stato no perché non posso forse deve esserci almeno un tot di dev astrakhan astrakhan e dai ma che palle cos'è che vuoi ancora 699 medio questo devo eliminare le altre truppe seoricamente questi qua sono i suoi banners vinti torno non sono solo cavalli quasi tutti però ok ok quindi ora tu stai andando verso questa peccato che questa zona qua sia già sunnita vorrei un secondo stack per convertire di qua non è male come idea quindi ora dopo che hai preso questo ti cerco di indirizzare verso musca rivoluzione in the ottomans what the fuck gli ottomani rivoluzionari no eh non so se è proprio il disastro boh fa niente dai che palle ma quanti sono come fanno a tirare fuori tutta sta gente dal nulla dove hanno un altro esercito qua hanno troppi uomini basta si ho capito perché hanno fatto la pace sui mancio cioè nella 1.28 dove sto giocando sono assolutamente rotti dai attaccami muori si per il tempo che mi hai fatto aspettare possiamo fare il massimo top e sono pure il teamer vieni qui tac allora tu vieni tu vieni qui grazie per il coro è un sacco di tempo che non faccio dev ad astrakhan però ora pure occupato dei repelli non è piccola la manciuria cioè se ne accorgi quando devi fare questa roba qua guarda lì ops possono anche avere dev che famo guarda lì Cazzo. ma se razzo questi territori mi arriva un missile nucleare in testa guardate che figata allora abbiamo lo sconto alle tech del 10% poi abbiamo fatto le idee umaniste quindi abbiamo lo sconto alle idee del 10% e alle tech del 10% poi abbiamo aristocratic 10% militari diplomatiche 10% militari amministrative 10% amministrative quindi boom 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 poi quando torneremo su unite avremo un altro 10% perché siamo quasi sempre con il legalismo al massimo quindi è proprio il top qui è stato qui è stato qui è stato ok anche questa è fatta allora dobbiamo eliminare questi due e adesso ci dirigiamo verso pattani vorrei attaccare tipo questo in mammerucchi nel frattempo così eliminiamo un po' tutta sta gentaglia vedi lì un attimo quanto manca l'annessione di quei due là siamo al 33% di queste nel 36 e questo qua finisce nel 51 bene più lento di quello che pensassi molto più lento nel prossimo episodio voglio attaccare vediamo un po' gli ottomani quanto sono grandi ora quasi abbastanza piccoli per essere eliminati però attacchiamo gli ottomani che sono sunniti e non gliene frega niente nessuno poi vorrei attaccare qui in questa zona questi qua ci metteranno una vita a convertirmi se fanno sta parte qua non è che mi dispiace a dire la verità due anni e tre tutta sta gente andrà via forse Dali no cinque anni perché faccio in tempo a fare i core quindi non sarà un problema comunque dai abbiamo completato la parte nord dell'Asia ora ci dedichiamo a questa zona qui e poi torniamo in là fra sette anni dobbiamo aver finito questa guerra perché dobbiamo fare questa subito e dopo voglio fare questa zona qui va a Burgundy e anche l'Italia per finire qua cioè Venezia diciamo africana quella mediterranea possiamo anche farla dopo va bene ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi GG a tutti che